Buongiorno, sono Francesco Maffei, Product Specialist KRA, siamo all'ISE 2013 dove presentiamo due nuovi prodotti, il più importante è quello che noi chiamiamo Anaconda KN200, il modulo, il primo modulo nel mercato professionale di un altoparlante flessibile, modulo da due metri, una linea di suono flessibile, utilizzabile principalmente per fare front fill, gli studi televisivi, in eventi corporate, in ogni situazione in cui hai bisogno di qualcosa di invisibile che sia facilmente, che si possa nascondere facilmente nella scenografia. Viene venduto con due quelli che noi chiamiamo calzini, uno nero e uno bianco, in modo tale da avere i due colori principali sempre disponibili, 64 ohm per poterlo linkare in parallelo ai nostri amplificatori e fare linee continui fino a 64 metri, con l'incadro in desi chain uno dopo l'altro. Altri tipi di applicazioni possono essere musica diffusa o annunci in luoghi pubblici particolarmente grandi dove c'è bisogno di avere una pressione, una equalizzazione costante ovunque e poi tutto quello che la fantasia può portare, per cui parchi tematici, scenografie particolari, musica di sottofondo in grandi giardini, creando lunghi a dei, è un sistema che si installa anche relativamente facile usando faccette in plastica o i suoi supporti che forniamo. Altro prodotto, altra novità, piccolo monitor, anche questo principalmente targetizzato al mercato prodotto, broadcast, studi televisivi, teatri e corporate, basso profilo, versione attiva e versione passiva pilotabile con i nostri amplificatori, può essere utilizzato in array orizzontale aggiungendo altri elementi in quanto ci sono sull'altro, parlanti da tre poli, uno accanto all'altro e si può giocare di conseguenza con l'SPL e la copertura del classico. Un'applicazione interessantissima di questo oggetto, come ceiling speaker, come piccolo PA, appeso al soffitto, destro-sinistro, terza, le conferenze, corporate, chiese e luoghi dove è necessario qualcosa veramente invisibile.